Ritengo che Michele Emiliano e la sua maggioranza con cui governa la Puglia, la regione Puglia, siano i veri nemici, tra virgolette, politici di Taranto, coloro i quali hanno affossato politicamente Taranto, hanno schiavizzato Taranto, hanno reso Taranto servile agli interessi di Bari. Questa è una convinzione che vi ho più volte manifestato, espresso con dati di fatto, ma la cosa che veramente mi ha fatto infuriare, mi ha fatto girare le scatole è proprio la notizia di alcuni giorni fa. Ryanair, quindi con il beneplacito di aeroporti di Puglia, amplia la propria offerta, i propri collegamenti diretti da Bari o da Brindisi per queste mete, Atene, Barcellona, Dubrovnik, Danzica, Malaga, Catovizze, Rodi, Tirana, Tolosa e Trieste. In tutto abbiamo circa 800 voli settimanali di Ryanair su 80 rotte e queste città che vi ho menzionato saranno le mete per l'estate prossima, l'estate 2024. Bari e Brindisi, Taranto, l'aeroporto Grottaglie-Taranto, ho detto Taranto in questo senso, Grottaglie-Taranto, l'arlotta completamente ignorata, negata, si continua ancora una volta a negare i voli passeggeri, i voli civili a Grottaglie. Poi si racconta la favola dei voli spaziali, aerospaziali, che dovrebbero appunto partire dall'arlotta di Grottaglie. Pensate un po', uno dice alla propria moglie, cara, questo weekend anziché andarcene, che so io, sulle Dolomiti o a Capri, ce ne andiamo su Marte, perché ci saranno i collegamenti aerospaziali da Grottaglie, non so se c'è da ridere o da piangere. E intanto i collegamenti di Ryanair crescono per Bari e Brindisi e ovviamente zero assoluto per quanto riguarda l'arlotta. Queste, signori cari, sono le scelte di questa regione Puglia, di aeroporti di Puglia e che dire, Taranto deve continuare a essere il fanalino di coda. Di qui, la mia guerra, tra virgolette, politica, mai personale, contro Michele Emiliano. Questi sono i fatti. Poi ditela come volete. Vi siete scandalizzati che io non abbia firmato la sfiducia al sindaco davanti al notaio, quando io invece lo volevo sfiduciare il 3 febbraio dinanzi al Consiglio Comunale, ma l'ho fatto per bloccare queste mire espansioristiche, questa stretta mortale politicamente di Michele Emiliano sulla città di Taranto. Giù le mani da Taranto politicamente Michele Emiliano. E ho voluto fermare il tuo disegno, perché era tutto pronto a Taranto per mettere sulla poltrona di primo cittadino innanzitutto Mario Turco del Movimento 5 Stelle e in subordine, in seconda battuta, eventualmente Enzo Di Gregorio. Caro Emiliano, ti ho fermato non firmando. Ti ho fermato. E i fatti, signori cari, sono questi. Quindi se ai cittadini di Taranto sta bene, va bene, vedere Taranto marginalizzata ed essere costretti noi a dover raggiungere gli aeroporti di Bari e di Brindisi e vedere negati i voli dall'arlotta di Crottaglie, contenti voi, contenti tutti. Questo è Michele Emiliano da Bari. Grazie.